Un momento particolarmente complesso e delicato per il futuro industriale del territorio brindisino, la necessità di trovare soluzioni come spiega lo stesso primo cittadino Marchionna facendo riferimento e affidamento anche ai massimi livelli istituzionali nazionali. Stiamo lavorando duro sia qui a Brindisi che a Roma e anche sugli scenari internazionali perché la posizione strategica di Brindisi è una realtà appetibile che bisogna far fruttare. Siamo in contatto continuo sia con gli esponenti di governo che con i dirigenti nazionali. Ho citato il dottor Ammedeo Teti che è il direttore generale del Ministero dell'Industria, il MIMIT come si chiama adesso, che ha sviluppato una missione in Cina e la stessa persona che più volte, ho detto anche a voi, aveva assunto con me personalmente il 5 marzo l'impegno di trovare tutti gli elementi necessari per comporre un accordo di programma specifico in favore di Brindisi. Inevitabile un riferimento alle prospettive di investimento di Enel nel territorio brindisino con il sindaco Marchionna che si dice cautamente ottimista. Non sono, come dire, chiusi nei confronti di questa realtà, sono consapevoli di detenere una grande responsabilità nei confronti di una città che li ha ospitati per 40 anni con una mega centrale, ma 20 anni prima già li ospitava con l'altra piccola centrale all'interno del porto. Da questo punto di vista, insomma, voglio dire, non voglio dare indicazioni che possono sembrare di eccessivo ottimismo, ma posso serenamente dire che qualcosa si muove.